hanno fatto irruzione forzando la finestra di un balcone dietro la villa hanno minacciato con i cacciaviti la famiglia è accaduto nella notte a san bughe di preganziol tre i malviventi incappucciati con il passamontagna in mano gli arnesi da lavoro quelli che utilizzano per scassinare porte e finestre il piano lo avevano studiato bene nei minimi dettagli probabilmente sapevano che all'interno della villa marcello del maino c'erano i coniugi 81 e 79 anni ma forse non che fosse appena rientrata dall'inghilterra la figlia matilde 44 anni ed è stata proprio lei che ha sentito alcuni rumori sospetti e si è alzata ha sorpreso i tre già all'interno della villa i malviventi le hanno puntato contro il cacciavite mentre uno la bloccava in una stanza gli altri sono andati nelle camere dove hanno trovato gli anziani genitori minacciati e immobilizzati nella stessa maniera i rapinatori si sono fatti consegnare i monili che avevano addosso poi hanno preso alcuni pezzi di argenteria e dei contanti circa un migliaio infine se ne sono andati lasciando sotto shock la famiglia immediatamente è stato lanciato l'allarme sul posto si sono precipitati subito i carabinieri la banda probabilmente era composta da tre che sono entrati in villa ed uno fuori che faceva da palo forse ladri che si sono trasformati in rapinatori il sindaco di preganziol è stato subito avvertito un fatto increscioso che lascia sgomenti proprio per le modalità con cui è avvenuto quindi non persone sprovedute ma persone che avevano ben presente la situazione a cui sarebbero andati incontro e che erano assolutamente preparati ad affrontarla nel parco sarebbero stati trovati alcuni oggetti lasciati dai malviventi forse nella fretta di fuggire oppure perché non li ritenevano di valore ed ora è caccia alla banda dall'accento potrebbero essere stranieri i carabinieri stanno visionando le telecamere di video sorveglianza per dare un nome ed un volto ai malviventi l'appello del sindaco l'attenzione deve essere massima l'attenzione debba essere davvero massima nel caso appunto appena registrato era una casa comunque con un custode con alcuni dispositivi di sicurezza che sono stati tutti quanti bypassati con la pandemia e lockdown furti e rapine erano diminuiti spiega il primo cittadino ora dobbiamo essere uniti ed aiutarci e segnalare movimenti o atteggiamenti sospetti muoversi secondo quelle che sono le regole già in auge in parecchi quartieri con il controllo di vicinato